Per il governo dovevano essere un vero e proprio appoggio, si stanno rivelando in verità come una spina nel fianco, vedendo anche le ultime notizie di cronaca, poi scopriremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Stiamo parlando dei renziani, se proprio dobbiamo definirli accostandoli al loro capo politico, ovvero Matteo Renzi. In pratica è Italia Viva, questo nuovo movimento che è nato distaccandosi dal Partito Democratico. Cercheremo di capire anche quali relazioni ci sono con i DEM. Vicino a noi abbiamo Maria Sandra Teresca, che ho tenuto tutta una vecchia conoscenza perché è stato ex assessore alla salute, assessore regionale, insomma, e adesso è coordinatrice provinciale di Italia Viva. Grazie per essere la tua trasmissione. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Allora, potete mandare sms 345 99 56 897, come sempre avete la possibilità anche di parlare direttamente con, appunto, come vi ho detto, con l'ex assessore alla salute. Chiederemo poi all'interno della nostra trasmissione come vede questa nuova riforma varata non per niente dal vicepresidente della regione Riccardi e capiremo, insomma, quali sono i prossimi movimenti del movimento. Già a partire da adesso, innanzitutto, perché ha aderito a questo movimento? Ma, devo dirle che ha colpito anche me, perché avevo, ho sempre avuto la passione politica ma non l'ho mai praticata e anche quando ho fatto l'assessore di fatto ho accettato perché mi è stata fatta la proposta da assessore tecnico. Sì. È chiaro che lì ti ha... Quindi non aveva velleità di carriera politica a un certo punto. Quando tutti quanti mi dicevano, ah, vedrai che ti candiderai, non mi sentivo affascinata da questa cosa. Però ho accettato in un momento particolare della vita politica del nostro paese, è un momento in cui nel PD, nel PD Renziano, riconoscevo una volontà vera di riformismo, di cambiamento, perché la politica aveva effettivamente bisogno di svecchiamento. E quindi ho accettato di fare l'assessore tecnico e devo dire che, insomma, lo spartiacco è stato alla data del referendum. Io credevo molto in quel referendum, penso che sia stata una grande forma di autolesionismo del nostro paese e più passa il tempo più ce ne rendiamo conto. Da quel momento, non avendo capito e non capendo tutt'ora, o meglio, capiamo. Il referendum è stato affrontato come stiamo affrontando la politica nel modo sbagliato nel nostro paese. È stata la colpa di Renzi, secondo lei? Ma anche perché aveva ottenuto comunque, se erano tutti contro di lui, aveva ottenuto comunque il 40% in quel momento. Se poi si va a vedere i risultati, forse l'apice in quel momento. Poi quando poi dalla sconfitta si è dovuto, si doveva cominciare a pensare, ripartiamo da quel 40% e forse qualcosa si è perso. Però è il problema proprio che poi è il più largo. Nel nostro paese dobbiamo cominciare a pensare alla politica nei suoi contenuti, no? Non è che perché la proposta me la fatizia o che è antipatico o che arrogante o che voglio buttare giù, la considero sbagliata. Ecco, questo modo di fare politica è sbagliato per quelli che credono fermamente una politica come cosa buona per la comunità. E quando c'è stata la posizione di Renzi di costituire un nuovo partito di Italia Viva, ho pensato e penso tuttora che ci sia la possibilità di cambiare qualcosa in questo paese. Mi chiedono subito, a bruciapelo, come sei lasciata col PD? Lei? Ma io col PD mi sono lasciata bene perché nel PD ci sono persone, a parte che io non facevo parte del PD, non avevo... Non facevo, sì, non avevo puntualizzato, l'ha puntualizzato già prima, non me l'è scritta. Devo dire che come sempre accade all'interno del PD ho ancora delle persone con le quali ho un'amicizia, alcune persone con le quali non mi sono capita, alcune persone che io non ho capito perché stai all'interno di un partito per continuare a fare comunque opposizione all'interno ed è stato forse anche una delle cose che ha reso faticoso anche fare delle riforme in quel periodo. Senta, quanti ci sono adesso gli iscritti all'interno di Italia Viva più o meno, insomma, non è che le chiedo il numero esatto. Direi soddisfacenti, direi soddisfacenti. Più del 4% che si attribuisce nei sondaggi, secondo lei, facendo un po'... Cioè, le sembra un po' pochino quel 4%? Le sembra un po' pochino anche perché in questo momento noi non abbiamo ancora fatto nessuna campagna, siamo appena nati e anche a livello territoriale ci stiamo veramente organizzando adesso e comunque spontaneamente sono nati prima i comitati e ci sono le persone che chiamano, che sono interessate, devo dire molti che non hanno mai, che non hanno avuto, che non hanno un passato politico. Ma si tratta più di gente che viene dal PD o da Forza Italia, dei moderati? Come viene definito questo movimento? Più vicino alla sinistra o adesso? Abbiamo alcune persone che sono uscite dal PD, insomma, prima fra tutte la coordinatrice di Trieste, la segretaria Grimm. Abbiamo diverse persone da Forza Italia, però ci sono anche molte persone che mi dicono non ho mai fatto politica, però sono interessato, voglio essere coinvolto, voglio fare proposte perché credono in quella cosa che dicevo prima, che forse c'è ancora una scappatoia per fare una politica seria. Senta, io le faccio vedere adesso un articolo di un giornale, o meglio online, la Repubblica che oggi parlava di quanto è accaduto nella giornata odierna, riviviamo un po' quello che è accaduto. Italia aveva diserto al Consiglio dei Ministri, vota con l'opposizione, Orlando dice in caso di crisi alle urne. Lei pensa che sia un modo per tirare per la giacca il governo in questo momento oppure veramente si vuole andare alle urne? Veramente Renzi magari vuole andare alle urne? No, io non credo assolutamente, Renzi ha fatto nascere questo governo e non credo assolutamente che voglia andare alle urne. Credo che però Renzi, anche in linea con quella che è la politica che vogliamo fare, abbia molto chiaro che la mediazione è sicuramente l'arte della politica, però ci sono dei principi sui quali non puoi trascendere. Credo che Renzi stesso tradirebbe la sua gente se non tenesse il punto su un principio importantissimo del riformismo che è quello del garantismo. Ecco, che cosa non va bene appunto nella riforma della giustizia? Questa riforma della giustizia è una riforma giustizialista e come tale populista, come è stato detto. Quello che appare strano è che questa è una riforma che è stata fatta nel governo giallo-verde che porta la firma del ministro Bonafede, ma anche di Salvini e del presidente Conte 1. È stata sempre osteggiata e adesso a difendere la riforma Orlando fatta dai governi del PD è rimasto solo Matteo Renzi, Italia Viva, questo è un po' strano. Ed è, non sono puntigli, queste sono le questioni di principio vero, per quella politica che dicevo, per cui su alcune cose non puoi, peraltro devo dire che Italia Viva ha presentato una mediazione che era assolutamente accettabile, a sospendere per un anno la prescrizione in attesa che si facesse veramente la riforma, perché la prescrizione forse non la vuole nessuno, però vogliamo i processi, vogliamo che ci siano i colpevoli, che gli innocenti siano innocenti e che lo si provi in tempi accettabili. Qualcuno, il giustizialista barra populista, dice che questa cosa lascia le vittime senza avere un colpevole. Non è vero, perché se non c'è prescrizione anche le vittime possono aspettare all'infinito, quindi la trovo sbagliata e la trovo anche questa è una delle cose degli slogan che parlano alla pancia della gente. È un riferimento puramente casuale a questo proposito, le chiedo, siccome può accadere di tutto un sistema elettorale proporzionale, con Salvini mai? Beh, questo non lo devo dire io, ma insomma credo proprio che Salvini rappresenta... Con la Lega mai per lei, insomma, se non è Salvini la Lega, non è nelle vostre torre. Rappresenta esattamente il contrario del riformismo e appunto il populismo, e quindi credo proprio Lega e Fratelli d'Italia, in questo momento sono esattamente l'opposto. Senta, le faccio vedere adesso delle foto, allora, un po' come nello stile della nostra trasmissione. La prima è di una ragazza giovanissima, che è diventata vicepresidente della regione Emilia-Romagna, con la quale Elislein l'estima per lei? Beh, l'estimo anche se non condivido tutte le idee che lei porta avanti. I suoi vari no a TAV, eccetera, non li condivido. Quindi è troppo di sinistra. Però, beh, credo che appunto, qui parliamo delle idee, no? Non delle persone. Credo che su alcune cose non mi sentirei di essere d'accordo con lei. Però riconosco che è indubbiamente una politica di valore, e che ha un suo seguito, che è assolutamente rispettabile, e che è importante, peraltro in un'aggiunta Bonaccini, è importante che ci sia rappresentata anche quella parte di... Lei è contenta, insomma, dell'esito che è andato? No, sono assolutamente contenta che in Emilia-Romagna Bonaccini abbia vinto, perché Bonaccini ha governato bene, ed è forse quello che potremmo riuscire a fare anche nel nostro paese. Leggo però che voi, adesso stanno arrivando anche altre domande, qualcosa riferente alla sanità regionale, dopo ci sarà nella seconda parte, perché stanno arrivando alcune domande sulla sanità, che poi è un tema sempre delicatissimo. Quando abbiamo avuto in ospite, in trasmissione Riccardi, insomma, la gente sulla sanità si scaglia sempre, mi dirà anche cosa le è successo in quei cinque anni. E voi siete, diciamo, più moderati che altro, insomma, no? Vi collocate più o almeno al centro, se non... Sì, se vogliamo guardarla come posizione... Sì, dobbiamo vedere come posizione. Allora, ci sono due persone in regione che in questo momento, io credo, che si stanno collocando nel centro, vabbè, forse nel centro-destra, però una nuova area di moderati. Adesso vi facciamo vedere un'altra foto di altre due persone, Bini, il primo, poi vediamo se andiamo col secondo, Riccardi, che poi è stata un'alleanza. In loro non si riconosce, lei. Assolutamente no. Sono di fatto la terza gamba della Lega, insomma, in politica siamo abituati a queste cose, ma evidentemente condividono quei principi contro i quali noi combattiamo. È esattamente quello che dicevo prima, slogan, populismo, e credo che certamente appare come la parte moderata, ma della Lega a questo punto, direi. La terza gamma. La terza gamma. Senta, invece, voi sarete presenti alle prossime elezioni comunali che ci saranno? So che avete appena avviato il vostro percorso, ma già si parla di elezioni, insomma, per... Sì, quelle del 2020 credo sia un po' difficile, a meno che non si verifichino delle condizioni particolari, per cui in determinati luoghi magari c'è un gruppo già organizzato. A me veniva da pensare a Cividale, per esempio, no? A Cividale non credo che siamo pronti al momento. Sicuramente in quelle del 2021 ci saremo. Quindi lì c'è invece Pordenone Trieste, insomma, che invece sono due. Il 2021 diventa importante, avremo anche il tempo di organizzarci, insomma, siamo davvero appena partiti. Allora, lanciamo la pubblicità, poi ovviamente adesso parleremo nella seconda parte, tutto di sanità. Eccoci nuovamente in onda con screenshot vicino a me, l'avete vista subito, Maria Sandra Telesca, che è la coordinatrice provinciale di Italia Viva, provincia di Udine, e oltretutto ex assessore regionale a salute. Abbiamo dedicato una parte, una parte era dedicata a Italia Viva, adesso la dedicheremo alle vicende regionali, o meglio, anche alla sanità. Nel frattempo stanno arrivando i vostri messaggi, il primo, rivolto entrambi, insomma, a lei, come si può parlare di un nuovo modo di far politica dopo aver distrutto la sanità in regione, è una domanda che devo fargliela, perché comunque è arrivata, dobbiamo dare spazio ai nostri telespettatori. Innanzitutto questa, cioè, le addebitano il fatto, questo telespettatore, di aver distrutto la sanità regionale. Lei difende quella riforma? Sì, io difendo quella riforma. A posteriori, anche se magari ha avuto qualche, cioè, ripensando, se ha avuto qualche... Assolutamente, difendo quella riforma, perché la riforma è la legge. E la legge, io sfido anche magari quel signore lì a leggerla, ed è una legge che prevedeva alcune cose. Poi, sicuramente, alcune cose potevano essere fatte meglio, poteva essere accompagnata meglio. Cosa vuol dire accompagnata meglio? Accompagnata meglio è la fase dell'attuazione. Vede, in Italia, noi pensiamo che fare riforme sia fare delle leggi di riforma. In realtà, la riforma è un cambiamento anche culturale. Cambiare, è da quello che, quando parliamo di riformismo, tutti dicono riformismo, riformismo, ma poi è difficile fare davvero le riforme. perché oltre a fare una buona legge di riforma, poi la devi attuare. E attuarla vuol dire scontrarti con il cambiamento culturale, perché c'è una grande resistenza. In Italia, in particolare, noi siamo tutti, ma tutti, lo dico anche io, quando al lavoro ti cambiano l'organizzazione, ti cambia tutto, è difficile. E bisogna accompagnarla. Credo che noi abbiamo mancato un po' nell'accompagnamento del cambiamento. Dopodiché ci vuole... Quindi è mancato l'accompagnamento. Quindi, metto in attuazione, metto in pratica, c'è qualcosa per cui non è stato messo in pratica. Mi faccio un esempio. Dovevamo forse... Giusto per capire anche la gente. Rispetto agli operatori, a quelli che devono attuare il cambiamento di sanità, attivare magari più formazione, più conoscenza, e poi comunque la pazienza, perché il cambiamento ha bisogno di tempo. La legge la puoi fare in un anno, e poi hai bisogno di anni, perché piano piano questa cosa venga davvero interiorizzata da chi la deve mettere in atto. È chiaro che se io poi vado allo sportello dell'ospedale e l'operatore dice ma qua ci stanno cambiando tutto, il messaggio che do al cittadino è che... C'era un po' di fretta quella volta di voler cambiare, cinque anni fa, magari anche perché c'era una crisi economica in atto, bisognava tagliare, bisognava... Mi ricordo, insomma, il primo Renzi, insomma, la voglia di riforme. Certo, riformismo sì, ma tanta voglia, troppa forse? Beh, troppa, direi che i dati... Adesso se parliamo a livello nazionale i dati alla fine hanno dato ragione, stanno dando ragione, quando? Adesso, perché il tempo dell'attuazione delle riforme è lungo e noi quando siamo arrivati al governo regionale era un periodo durissimo, una crisi terribile, gli anni 13 e 14 sono stati anni molto duri, in sanità avevamo 100 milioni in meno da poter assegnare, quindi eravamo andati molto al di sotto di quello che era il finanziamento degli anni 2010-2012. non che la riforma fosse fatta per risparmiare, ma sicuramente per cominciare a mettere in atto una riorganizzazione che poi avrebbe dato i suoi frutti. Non credo di avere distrutto la sanità, anche perché l'ho lasciata nel maggio 2018, con tutti i parametri in rialzo, quindi sono i parametri buoni. Certo che la sanità è sempre... Ma in realtà non è indebitamento, usare il termine indebitamento è sbagliato, è chiaro che devi mettere più risorse, abbiamo messo più risorse, abbiamo riavviato le assunzioni di personale che erano ferme dagli anni, dal 2013, 2012, 13, 14, abbiamo cominciato a riassumere e chiaramente abbiamo dovuto mettere più risorse. Anche oggi, come vediamo, le risorse che servono in sanità sono sempre maggiori, ma i motivi sono tanti e sappiamo che non sono infinite le risorse e quindi chi governa ha purtroppo questo onere di riorganizzare, di far sì che ci sia un governo forte della spesa. Molto spesso spiegare questo ai cittadini è difficile. Nel suo osservatorio, dentro di sé insomma, a distanza di tempo, si è chiesta come mai avete perso le elezioni in regione, dovuto alla sanità o alle UTI, a che cosa secondo lei? Ma guardi, io non credo che... Poi vi sarete anche parlati magari il giorno dopo, no? Sì, ma sicuramente, ma... Allora, fare le riforme non ti porta a consenso nell'immediato. Farle davvero, e questo è pacifico. Poi bisogna saperle comunicare, forse lì abbiamo mancato un po', però non possiamo nasconderci dietro un dito. Quello era il periodo in cui l'onda forte, populista, leghista, dei Cinque Stelle, cioè, in tutte le regioni, non solo nel Friuli Venezia Giulia, anche in quelle dove non ci sono state riforme, e come si sono capovolte le situazioni. Quindi credo che sia stato assolutamente quello. Dopodiché, appunto, quando vuoi cambiare, il consenso nell'immediato non ce l'hai. Forse bisogna cominciare a pensare di spiegare il cambiamento meglio, evidentemente, spesso non siamo stati capiti. E poi bisogna anche cominciare ad entrare nell'ottica che siamo comunità. a volte rinunciare a una cosa piccola lo si deve fare in cambio di avere qualcosa di più importante per la comunità nel suo insieme. Riccardi l'ha smontato la riforma? Ma, guardi, non credo che sia smontata quella riforma. Devo dire che in cinque anni di opposizione... Poi mi dà anche un voto. Insomma, credo che in cinque anni di opposizione del centro-destra, alla quale hanno contestato soprattutto l'impianto, cioè l'integrazione tra ospedale e territorio in un'unica azienda, poi di fatto non è stata smantellata. Mi sarei aspettato sicuramente questo, cioè di riportare gli ospedali da una parte e il territorio dall'altra. Fare le tre aziende, se devo dire, con molta sincerità, era un'ipotesi che avevo preso in considerazione anch'io e che non era scartata per il futuro, cioè poteva essere il secondo step, però aveva bisogno di più tempo. Secondo me le tre aziende oggi innestate su un cambiamento ancora in atto precedente portano un grosso rischio organizzativo. Un grosso rischio organizzativo e bisogna essere... Perché appunto gli operatori erano ancora, erano appena riusciti a cominciare a far funzionare il primo cambiamento, a quel punto ridisfi le aziende e le rifai di nuovo con un altro... con alcune fusioni, alcune, diciamo, scorpori e questo va gestito bene dal punto di vista organizzativo. Chi è dentro nella macchina si accorge che c'è un certo disorientamento. Se deve dare un voto, quindi? Ma no, guardi, il voto non lo do, non lo do perché credo che poi dobbiamo ancora aspettare gli effetti. Sulla legge il voto mio non è sufficiente perché se guardo solo la legge perché la legge così com'è secondo me non è sufficientemente chiara è esposta troppo su altri soggetti decisionali quelle decisioni che invece sono strategiche che dovrebbe fare il consiglio il legislatore. Dopodiché il ruolo del distretto non è molto chiaro però poi come è successo per la mia riforma la mia legge sicuramente mi piaceva molto di più però e devo dire che disegnava delle traiettorie anche più chiare forse con più coraggio per certi aspetti e ci siamo anche presi poi tutta l'opposizione che ci siamo presi però credo che è sull'attuazione che daremo un voto. Soprovviverà il punto nascito di La Tisana? No, guardi io su questa vicenda del punto nascito anche lì penso che è spostare problemi veri della sanità noi diciamo che secondo me il legislatore doveva dire la riduzione dei punti nascita e noi l'avevamo messa tra Palmanova e La Tisana in realtà un errore l'abbiamo fatto è vero dovevamo probabilmente assumere noi politicamente la decisione che però era tecnica in realtà la scelta tra Palmanova e La Tisana non è stata politica ma tecnica perché dei dati ci dicevano che sul distretto di Palmanova due terzi delle donne che partorivano lì erano del distretto di Palmanova mentre di La Tisana erano molte di meno e quindi avevamo no c'era comunque la preoccupazione che chiudendo Palmanova poi si sarebbe chiusa anche La Tisana ora vediamo se La Tisana devo dire che Udine sta facendo un nuovo materno infantile che avrà una potenzialità enorme e quindi le donne stesse poi sceglieranno senta io le chiedo l'ultima cosa una buona notizia probabilmente insomma il ragazzo che rientrerà dalla Cina Nicolò insomma 17 anni poi è rimasto lì ingabbiato sembrava quasi un film con Tom Hanks quasi all'interno dell'aeroporto è mancato secondo lei un po' anche di diplomazia oppure veramente una questione di influenza ma guardi io su questo su tutta la vicenda queste vicende qui del coronavirus e dell'epidemia anche qui direi che la politica fosse un passo indietro e lasciamo dire le cose anche sulle modalità di attivare le forme di prevenzione è un assist per chiedere quando nel momento in cui i quattro governatori della Lega chiedono sostanzialmente di mettere in quarantena chi tornerà alla Cina all'interno degli istituti scolastici ho fatto l'assessore alla sanità lasciando un'autonomia e ascoltando i tecnici perché credo che su queste questioni dobbiamo ascoltare i medici come sui vaccini medici e anche per quanto riguarda prevenzione epidemie magari se la politica fa anche un passo indietro fa bene qualche rimorso alla fine non ce l'ha di quei cinque anni rimorsi no rimpianti neanche tanti ricordi alcuni belli alcuni brutti bene allora bocca al lupo per la sua esperienza nuova all'interno di Italia Viva che poi da quel che ho capito insomma fa continuità con quello che lei ha sempre provato all'interno della politica da quando ha iniziato insomma si è trovato da tecnico a politico ma sempre ha abbracciato diciamo la politica di Renzi sì sì questo sicuramente sì Bene screenshot torna la prossima settimana sempre doppio appuntamento mercoledì e giovedì grazie arrivederci Grazie a tutti